Avevano messo a segno furti in cantieri ed imprese della Val Pescara in una discoteca dell'Aquila portando via rame e materiale per l'edilizia del valore di 100.000 euro, materiali che venivano poi ricettati in un negozio di Montesilvano. I carabinieri di Popoli, coordinati dal comandante il capitano Giovanni Savini e dal vice comandante il capitano Tonino Marinucci, in collaborazione con i militari del nucleo operativo ecologico di Pescara, questa mattina hanno eseguito sette misure cautelari nell'ambito dell'operazione denominata Multipla, che ha preso le mosse nel maggio del 2018 dopo che i carabinieri avevano fermato una Fiat Multipla presa a noleggio a bordo della quale c'erano materiale rubato e persone pregiudicate. Così come Multipli erano i carichi di refurtiva, che venivano parcellizzati per non insospettire le forze dell'ordine in caso di controlli. Le ordinanze sono state messe dal GIP del Tribunale di Pescara Antonella di Carlo su richiesta del PM Andrea Papalia. In carcere sono finiti Guglielmo Covitti, 66enne, Marco De Marchi e Giuseppe D'Alfonso, di 59 e 56 anni, tutti pregiudicati come Francesco Marzano, 28enne, agli arresti domiciliari e le altre tre persone, due delle quali hanno obbligo di firma e una l'obbligo di dimora. I sette risiedevano tutti nella zona di Popoli e Torre dei Passeri. La misura a carico di Marzano è stata eseguita a Gioia del Colle, in Puglia. La ditta di Montesilvano, dove veniva portata la refurtiva, che era dedita allo smaltimento di materiali ferrosi, al termine dei controlli è stata chiusa e sottoposta a sequestro preventivo. Fondamentale è stato il GPS di cui erano munite queste autovetture noleggiate, perché hanno permesso di ricostruire tutto il tracciato, con un margine di errore, il GPS ha un margine di errore molto basso. Attenzione a chi si reca nei vostri negozi ed esercizi commerciali, ha detto nel corso della conferenza stampa il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Riscaldati. Fare attenzione a soggetti, a persone che entrano nelle aziende presentandosi come nuovi clienti, cercare di non lasciarli da soli. La stessa cosa riguarda gli allarmi reiterati che durante la notte vengono attivati. Questo è un modo che abbiamo constatato utile a verificare da parte dei malintenzionati i tempi di reazione e di intervento degli istituti di vigilanza o delle forze dell'ordine.